Sì, è tutto buono, tutto buono, lo scambiccino, forse a vantaggio, un pallone destro nel mezzo, va, poi, e il scambio di un grosso, va, schiacciate con il testo, questo va da vinico, dove arriva, la pace, dove la solete, come è successo con questo? Il pallone, il pallone, il pallone, il pallone, il pallone, per lo scambiccino, un inizio che non è assolutamente... Quarta settimana, piazza la pezzare, del vantaggio, 2 a 0, scambiccino, proprio vantaggio, il successivo, don, il campionato per del Vela, e adesso muore anche i quali avventi, sono tra sette i due minuti, sono tra i pozzi delle nostre assi, ci trovano offeri da lontanissimi, con la fila, con il fietrico Razzini, un gol che infiamma questo finale. Il secondo tempo, qua, dallo stadio Romanelli, di Borcosalorenzo, è la ventisettesima giornata della gamba, l'eccellenza Germania Piazza, con una chave fulana.